In collaborazione con Trieste Trasporti Muoversi bene Ring, buonasera, buonasera, ben ritrovati in diretta Dunque, ultima puntata dell'anno, giornata di bilanci Lo faremo insieme agli ospiti che tra poco vi presento Vi ricordo il 3407 006567 per sms e domande C'è una precisazione da fare rispetto a quanto era emerso nel tardo pomeriggio Alla fine il governo ha deciso che le discoteche stanno proprio chiuse fino al 31 gennaio Quindi rispetto a quanto ci avevamo detto e avevamo capito Questa è la decisione di Roma per le prossime settimane Tra l'altro da questo partiamo Saluto e ringrazio il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza Buonasera, buonasera a tutti Questa sera avremo il sindaco, poi ci sarà il presidente della regione Massimiliano Fedriga Un lungo dialogo anche con lui in questa giornata per fare un bilancio di questo 2021 Che facciamo anche col sindaco, è tutto contento con la città prima Lasciami che prendo un attimo però in mano le regni delle traduzioni Allora dobbiamo fare gli auguri a Ferdinando Buon Natale e naturalmente alla Giulia Perché il 7 è nato il loro figlio, un maschietto bellissimo Per fortuna ha preso dalla mamma E allora ci facciamo gli auguri a nome del sindaco A tutta la città Siamo molto felici di questo evento E di questa cosa che sicuramente vi farà molto felice Per cui un bacio anche alla Giulia Giulia in qualsiasi momento vengo a testimoniare contro di lui Vabbè dai non dire Basta riprendi i gredini della commissione Buon Natale sindaco Grazie Famiglia Grazie, grazie, grazie Un bellissimo Natale Dovete darmi atto che insomma dopo l'elezione Che vi ringrazio sempre che mi avete rieletto Siamo arrivati i primi in Italia Fortuna, ma che fortuna 5 anni di duro lavoro Dico ma abbiamo lavorato tanto Perché i parametri sono 90 Cari concittadini In questi giorni poi la Sandra Savino Mi porta a casa L'altro giorno altri 2 milioni Per la terapeutica Oggi l'hanno dissequestrata Insomma è un momento Dopo naturalmente Adesso ne parliamo C'è tutta una fila di cose Di sfida di cose positive Però in confronto allo scorso anno Che eravamo tutti Poi la città si presenta bene Siamo anche pieni di turisti Lo scorso anno abbiamo fatto Cioè quest'anno abbiamo fatto 230 mila Con le crociere Posizionati per 440 mila Nel 22 E 750 mila Nel 23 Le previsioni Le previsioni Sono numeri notevi La città comincia a correre Sotto il punto di vista turistico Per cui grandi soddisfazioni Ferdinando Non so se ha avuto modo Questa sera Di guardare e capire Quali sono le decisioni Messe in campo dal governo Tra queste c'è La mascherina La FFP2 Quella un po' più performante A bordo dei mezzi Per andare al cinema E teatro Mascherina obbligatoria L'ha aperto Ovunque Florenzia Giulia Le ha già Essendo Regione gialla Il super green pass Anche per prendere Il caffè al bancone Ci sono tutta una serie Di iniziative Ulteriori Per cercare di scongiurare Questo momento E soprattutto Sindaco Nessuna festa l'ha aperto Cioè il Capodanno Allora ecco Vedi Qualche mese fa Qualche mese fa Io ho detto Che non faccio la festa Di Capodanno Apro polemiche Apro il cielo Tutti contro il sindaco Di piazza Adesso tutti Non fanno la festa Di Capodanno Allora sto dicendo Se con un punto d'orgoglio Riesco a vedere Prima degli altri Ho detto Cosa vuoi fare Le feste Con gli assembramenti Decine di migliaia di persone In un momento Che ci sono questi contagi E c'è questa pandemia Cerchiamo Di rispettare Cari con cittadini Più possibile Le regole Mi sembra Che stiamo andando Verso il verso giusto Non siamo più leader In Italia Per la pandemia Per i contagi E questo mi fa piacere Siamo leader Per altre motivazioni Vengono introdotte Le FFP2 Perché invendute Non credo che siano invendute Ne vedo tantissime Già in giro Ma perché sono più performanti Insomma questo è sempre stato Così dall'inizio Va bene Quindi arriviamo Oggi l'ho vista Con le chiavi Togliere le grate Acqua marina Sono arrivati i carabinieri Ci hanno consegnato il tutto C'era il dottor Giunta C'era la Sandra Savino C'era anche l'ingegner Fantini Perché adesso comincia La storia Quando ho visto però Queste macerie Cari con cittadini Ho pensato Scusate Che miracolo Che miracolo Che non abbiamo Ultronorti Non c'è alcun dubbio Allora abbiamo Macerie dentro Guarda C'è così Un tetto Da 600 metri quadrati Crollato completamente Immagina se ci fossero state Le persone sotto Per cui ringraziamo Il buon Dio Veramente Di questa cosa Perché veramente Oggi Mi ha veramente toccato Guardando dall'esterno Perché poi Non possiamo ancora entrare Perché Bisogna avere i caschi Insomma Poi c'era la stampa Sai Allora adesso Con Fantini Adesso vedremo Di dare l'incarico Per rimuovere Innanzitutto Tutte le macerie Con urgenza Rimosse le macerie Abbiamo 5 milioni Uno del comune Due che ha messo Fedria Della regione E due che li ha portati Dal governo La Savino Per cui insomma Abbiamo 5 milioni Che è quello che basta? Cercheremo di farli bastare E se non bastano Aggiungeremo Perché Qual è il problema? Lì c'è un contratto Firmato ancora Nel 99 Quando era sindaco L'altra giunta Illi E hanno firmato Un contratto Di 30 anni Che nel 29 Dobbiamo ritornarli Che poi Non li ritorneremo Perché andremo a rinnovare Però non è che posso Ritornare De mani O dello Stato Una carcassa Crolata Capisci? Ma deve ristabilire Ma bisogna metterla a posto Quindi i contagi Stanno aumentando Oggi record In assoluto All'inizio pandemia Mi parla Il numero di contagi In Italia In Italia In Italia Contagi diverso Per fortuna Il numero di occupazioni Però da noi Per fortuna Stanno calandosi Domani farò la terza dose Dal primo di febbraio Il Green Pass Scende da nove mesi Dura sei Questa è la novità Le snoccioliamo man mano Che ce le domandate Sa che questa sera C'è poi un'intervista Al vescovo Nell'ultima parte Ho detto Vedriga dopo E il vescovo Nell'ultima parte Registrata Nelle scorse ore Mi ha colpito Tra le tante cose Abbiamo parlato Il Natale Vorrei che adesso Anche lei ci dicesse Che Natale è Però al vescovo Piace la cabinovia È una persona intelligente Il vescovo Abbiamo parlato Le cose della città La cabinovia Darà un servizio Per la mobilità Ma pensate Sotto il punto Di vista turistico Quando vieni giù Da Prosecco Forse sarà capitato Anche te Che arrivi Sulla curva Che ti si apre Il mondo Davanti c'è in fondo La Croazia Con Punta Salvore Poi hai Pirano Tutta la Slovenia Trieste Dall'altra parte Hai Mon Falcone Le montagne Dell'Austria Cioè questo Andremo a presentare I turisti Dico Gli altri Genova Che ha preso 70 milioni Cosa sono Dei fessi Siamo sempre Le solite Di Trieste Che qualche volta Si spacca Su queste cose Un po' Conservatori Cittadini Un po' La politica Che ci mette Del suo Spesso e volentieri Insomma Da una parte E dall'altra E non tiro fuori Nessuno E beh Come è andata Questi due giorni Del convegno Quindi il confronto Con la città Beh ma sai Tutto bene Però dopo Si è alzata La parte politica Versa Ovviamente Giusto Dai c'è un confronto Ma non è mica Che mi disturbano Assolutamente Tanto Io continuo A fare sindaco Loro continuano A lamentarsi Insomma Si sono talmente Lamentati In campagna elettorale Che siamo primi In Italia Beh anche oggi Però le dicono Non passano le emozioni Non passano No no Cioè il consiglio comunale Un po' Pensate Ma no Il consiglio comunale C'è una pandemia Poco interpellato Poco rispettato Ma poco rispettato Sì perché le emozioni Cambiano la vita Dei cittadini Ma questo le dice Le risposte che non arrivano Dall'amministrazione comunale Le interrogazioni Ma le risposte non arrivano Figurati È il motivo per alzare Su qualsiasi cosa Guardate che Che esisto Lei dice sempre Certificato di Certificato di Però lei è cattivo Non sono cattivo Mi dice perché non si elegge Vice Presidente del Consiglio Comunale Allora Perché non volete la famulare Lei mi dirà Io non c'entro niente No un attimo I miei non vogliono la famulare Però Dico nel 16 Dieci giorni prima delle elezioni Che sono ritornato io Il sindaco di allora Cambiò il regolamento E fecero questo regolamento Che comprende anche i voti Della maggioranza Prima Prima C'erano tutti e due Della maggioranza C'era Furlanic E mi sembra un altro Che non mi ricordo il nome Sempre comunque Della sinistra Allora dopo Dopo all'ultimo momento Dieci giorni prima delle elezioni Cambiano questo regolamento Adesso è previsto Che ci sia anche il voto Della maggioranza E la maggioranza dice Tutti meno quella Adesso vedrò Cercherò di mediarlo Ma si sa come mai Perché Perché ci sono sempre Questa persona Sempre un po' Ha sempre attaccato In maniera scomposta Sai Io capisco che si possono dire Delle cose Delle cose da oppositori La crescita della città Però è diventato Tema di scontro Va bene Quindi Lei non ci racconterà Di venire qui A Telequattro Trovare una città Come era un anno fa Come era Mesi e mesi fa Un po' triste Vuota Però anche quest'anno È un Natale No Beh diverso Allo scorso anno Allo scartamento ridotto Lo scorso anno Ero partito Già in novembre E poi mi arrivò Un lockdown O la zona rossa La zona rossa Sì Allora sto dicendo Quest'anno Guarda Venerdì sera C'erano migliaia di persone In piazza Dappertutto Pieno di gente Turisti Sabato era impressionante Per cui insomma Lasciatemelo dire Abbiamo una città In questo momento Ok Poi Arrivi in viale Tanto per dirti in viale O in qualsiasi via Della città Ci sono le luminarie D'appertutto Insomma Si sente proprio il Natale E quello che mi fa piacere Dirti Che dalla stanza Del mio ufficio Guardo Tutti davanti al presepe È bellissimo Veramente Sono E questi sono valori Importanti Perché fermarsi ancora Davanti al presepe Dove nasce Gesù Bambino Insomma Sono quelle cose simpatiche Scrivevano che senso aveva Molti pensano che il decreto Sono firmato Oggi dal governo In firma in queste ore Affossi Determinate categorie In particolar modo Il Natale definitivamente Gli hotel E via dicendo Qualcuno scrive Ma che senso ha il super green pass? Non lo controllano mai nei bar? Che senso ha il super green pass? Guardate la movida È un problema anche a Trieste Ho capito Allora chiudiamo di nuovo tutto E mandiamo a casa la gente E andiamo in falimento Cioè intendo dire Allora non va mai ben niente Allora sto dicendo Il governo prende delle decisioni E il sindaco le applica Perché le leggi Veramente è pazzesco Siamo davanti a una pandemia mondiale L'Olanda L'Olanda Paesi bassi È in lockdown E allora sto dicendo Volete che torniamo in lockdown Che chiudiamo di nuovo tutto? Spero di no Chiedono l'ascensore a Miramare Ma insomma Questo ne abbiamo già parlato Tante volte Ma l'ascensore Allora innanzitutto Chiariamocene una volta per tutto È il demanio regionale Io come sindaco Solo ho fatto mettere 3 milioni a Seracchiani E 2 milioni a Federica Hanno fatto questa cosa L'ascensore sarà nascosto Perché non si vedrà neanche Ma pensiamo però L'opportunità delle persone Con problemi di deambulazione Di handicapati Ci teniamo sempre tanto a questo E dopo quando decidiamo Di fare un ascensore Contro Sempre quelli naturalmente C'è chi è contro l'ascensore? No dicevo Sempre quelli Che si lamentano Perché qualsiasi cosa proponi Non va bene Se proponi la cabinovia Non va bene Se proponi l'ascensore a Miramare Non va bene Qualsiasi cosa E allora È quella sparuta Un gruppo di cose E poi abbiamo Intelligenti Invece di fare Sono qua da 4 mandati Ne abbiamo già parlato altre volte Più che altro La piena di Cattinara Giusto? Lì c'è un po' di Di rabbia Chi ha fatto il progetto? Chi ha fatto il progetto? Ah ecco Allora andate In precedenza Eh Andate a cercare Chi ha fatto il progetto Siamo sempre Lei non lo può bloccare No Ah e perché devo bloccarlo? Perché Allora abbiamo Cattinara Anzi ti do una notizia Probabilmente Parlando con Marco Decker In questi giorni Che è un amico Al di fuori di tutto Mi ha detto che probabilmente A fine anno Siamo a fine anno Sarà consegnato il cantiere Una parte del cantiere di Cattinara Allora Vogliamo dirci Chi ha fatto L'ospedale di Cattinara Lassù Sui colli Conduettori Nel posto dove c'è più Bora A Trieste Allora Torniamo indietro Dopo quei 4 alberi Ho già parlato con La Suggi E con le persone Pianteremo Centinaia di alberi Però ripeto Chi ha fatto il progetto? Cioè una volta intervenuti lì Comunque si ripianterà in zona Adesso sto dicendo Molti più alberi Giusto? Abbiamo 150 milioni fermi Da quanti? Da 10-15 anni E vogliamo continuare a dire Dobbiamo fare un'altra variante Così blocchiamo ancora tutto Blocchiamo ancora tutto E blocchiamo ancora tutto E no Come spendi i 40 milioni Per il Porto Vecchio? L'urbanizzazione dell'area Allora Adesso abbiamo Consegnato Per fortuna È un momento Veramente interessante Ha vinto Mari e Mazzaroli I 10 milioni Di collegamento Della strada Dalla rotatoria Fino in Piazza Libertà La tripo Che vi sa anche va giù Ormai a mesi È finita anche Quell'Iter per fortuna Allora ci sarà la strada Che collega Dalla rotatoria Di Barcola Fino a dentro In Piazza Libertà Per fortuna 10 milioni A Vinto a Mari e Mazzaroli In Porto Vecchio Dentro in Porto Vecchio Sarà chiusa la strada Per cui non si potrà più entrare Resto lo stesso tragitto Mi pare Sì Quel tragitto lì Che dopo si collega Col centro congressi E dopo naturalmente I 40 milioni Del PNRR Servono per l'urbanizzazione Dell'area Cioè bisogna fare Tutte le strade Portare le fognature Acqua Gas Telefono Luce Tutto quanto serve Poi 40 milioni Ce la facciamo A quel punto Arrivi tu Che ti compri la sede Per Tele4 E hai già urbanizzato l'area Certo Quindi lei dice Un incentivo in più Non so i tuoi dibattiti Cioè so che C'è tutte le sottostrutture Dico per gli imprenditori Arrivare Che è già tutto urbanizzato È diverso Che cominciare a dire Devo fare Difatti A suo tempo Green Season Si bloccò proprio Sui 6 milioni e mezzo Che servivano Mi ricordo Per le urbanizzazioni Dei 5 magazzini E poi si è tutto fermato Insomma E non si è andati avanti Quindi Tripkovic Quando? Beh insomma Abbiamo fatto Il progetto di abbattimento Abbiamo fatto la variante Del Conto economico Mi sembra Due settimane fa Ci sono i soldi C'è tutto C'è il progetto per l'abbattimento Avanti Non vedo l'ora Così come Non l'ho chiesto prima Acquamarina Che tempi ha di fatto Perché Acquamarina Adesso Ora rimuoviamo le macerie Adesso tanto per spiegare ai cittadini Rimuoviamo Tutte le macerie Andiamo dentro con gli architetti Vediamo i veri danni Perché lì ci sono anche danni interni Vediamo Tutto quello che serve Poi Devo confrontarmi anche Con le organizzazioni Lì La Federica Varina E loro Che vogliono Alcune modifiche Per le persone Con problemi Di handicap O di ambulazione Per cui Cerchiamo di fare Anche delle modifiche Perché non era un impianto Al top Se posso dare un consiglio Anche la parte piccola Che era spa Diciamo Sauna Bagnotur Nuovo Tutto bene Già che ci sia Lei pensa anche a quello In Portovecchio Dobbiamo fare Un progetto Immediatamente Una gara Mi sembra Adesso il governo Ha fatto Sotto i 150 mila euro Mi sembra Che hanno aumentato Il limite Per cui Si potrà partire Probabilmente Con una certa urgenza Però Lì bisogna Tirare su una gru Perché ci sono Centinaia di tonnellate Di macerie Dentro Si immagina Fare la cabinovia In tempi Strettissimi Perché è un finanziamento Del PNR Quindi a Tempi Contingentatissimi Ho capito Ma 48 milioni D'altra parte Cosa facciamo Diciamo di no? No Non intendo di dire questo Abbiamo portato a casa 48 milioni Se pensate 48 milioni Sono 92 93 miliardi Delle vecchie lire Ma voi Vi rendete conto Che una volta Per qualche miliardo Facevi baruffa per anni Adesso stiamo parlando Che abbiamo 416 milioni Sul porto nuovo Che sono 800 miliardi Giusto di vecchie lire 800 miliardi Una volta erano finanziari Se ci pensi Allora sto dicendo Approfittiamo di questo Momento straordinario Siamo pieni di soldi Cerchiamo di lavorare bene Tutti insieme E questo la città In questo momento Lo sta facendo Perché Fedriga Ci sta dando Un grande aiuto Il sottoscritto Lavora Ecco perché Fortuna Fortuna 5 anni di lavoro Ci hanno portato Dove siamo arrivati Come eravamo già arrivati Tu non so se eri già a Trieste Nel 2005 Quando eravamo Eravamo primi Nel 2000 Ma che fa lei? Quindi guarda gli indicatori E dice Dobbiamo migliorare qui Sono 90 Sono 90 Loro prendono gli indicatori Loro prendono 90 indicatori Fanno la somma Dividono per 90 E viene fuori chi è primo Per nostra fortuna Chi è primo? Trieste Padova dove è? E' scesa E' scesa No ma poi Dobbiamo dare atto Fedriga Che Udine E hai anche Il settimo posto Pordenone Al nono Viceversa Sì le prime dieci Ce ne sono più di uno Insomma Delle prime dieci Sì le top ten Abbiamo le tre città Della regione Friuli e San Giulio E su questo Ovviamente vuol dire Che è stato fatto Un buon lavoro Anche a livello regionale Qui le chiedono Il comune dovrebbe organizzare La raccolta porta a porta L'ultima volta abbiamo litigato Io e lei sulla differenziata Vabbè però Per chi è in quarantena Covid Insomma questo dicono Eh sì Perché questo è stato un problema Sì dall'inizio Vabbè ho capito Ma adesso Ho capito Ma non sarà mica un problema Chiamare l'amico O il parente Che ti porta via Il sacchetto di spazzatura Perché allora Veramente tocchiamo il fondo Non vanno a vaccinarsi Però vogliamo questo Anche no Senta sindaco La volta scorsa Precedenti Lei ha detto Che avrebbe cambiato Il progetto Per i tre ponti Sì Lungo le rive Si va avanti Si fa con la sua idea Oggi in giunta Abbiamo deliberato La chiusura Del vecchio progetto Quindi non si fa più Quella Non si percorre più Quella strada Da sotto Non si riusciva Ad abbassare L'acqua Perché l'acqua Arriva dappertutto Adesso cosa facciamo Tanto per capirci Apriamo una corsia Attaccata Alla Capiteria di Porto Passeremo lì Gettato Fatto Si passerà lì Poi faremo quella centrale E si passerà All'altra parte Poi quella centrale Fungerà Di alternativa All'ultima via E a quel punto Faremo Una gettata Di 60 centimetri Tutto Naturalmente armata E che potrà Passarci sopra Anche un caro armato Insomma Ma dall'alto Però Era difficile Da sotto Guardami Fare questo lavoro Ok Non difficile Impossibile E poi Stavo arrivando a questo Non sarebbe Durato Il tram Conferma Lei ha detto Primo febbraio No Ma non confermo Mancano Oggi lo dico Visto che ogni tanto Vengo Mancano 20 metri Prego Le traversine 20 metri mancano Gli ultimi 20 metri Per cui davanti i 20 metri Ho detto che lo consegno Ai primi di febbraio Che è il mio compleanno Si anticipa Che fa? Si siamo lì Mancano 20 metri Insomma Tornando Sicuramente è stata una cosa drammatica E non voglio neanche parlare Se è proprio un altro disgraziato Rimane il fatto Che adesso Un attimo Adesso dovremmo avere Perché poi hanno cancellato Anche l'Ustif Che era quello Che ci darà i permessi Per cui adesso Non si sa neanche Chi è che ci darà i permessi Comunque il tram Comincerà a carico I cittadini Ha vinto lei Alla fine Ha perso la querela Com'è? Ha perso la querela Però questi li hanno cancellati Non esistono più Poi Hanno scritto oggi Che sono molto fortunato Sulla stampa Vinco sempre Ma no Non è così Ma cosa vai a querellare Un sindaco Perché ho detto Che non capite niente Insomma Fa parte Ciò dovrebbe far parte Dei giochi della politica Insomma E' come se io dicessi Il tram Chi ha operato Sul tram di Occi Per cinque anni Sicuramente Non si è distinto Per efficienza ed efficacia Insomma E dopo cinque anni Cosa ho detto? Ho detto la verità Insomma Dopo naturalmente Siccome il capo sono io Mi assumo tutte le responsabilità Ma non è così Perché Certe aziende Che sono venute a lavorare Non avevano neanche alba Di cosa era naturalmente Una rotaia Insomma Tanto per capirci Però vincono le gare Eh Questo è il vero problema Il codice degli appalti È il vero problema del paese Perché avete visto Che il Ponte Morandi Fatto Bucci Il mio amico Bucci Sindaco Di Genova L'hanno fatto commissario E in due anni Ha fatto il Ponte Morandi Però dopo le dicono Allora la gara Va scritta diversamente Con più attenzione Più puntigliosità No 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 Se non può vincere chiunque Anche appunto Di non sa nulla di notare C'era Decker C'era Sergio Colini C'erano le grandi aziende Ma però Il 18 e 7 Di ribasso Parlo per esempio Della galleria Di Montebello Ti dà immediatamente La vittoria Ti dà Anche perché Se non lo fai vincere Quello fa ricorso E dice Io ho fatto il 18 e 7 Ma per tanto Comunque anche Quello che vince Con il massimo ribasso C'ha il secondo Che fa ricorso lo stesso Sinodo È bravo Allora L'altra volta Lei qui Anticipò Il problema Dell'aumento Del costo Del famoso Lombricone Per quanto riguarda Galleria di Piazza Foraggi E ho visto Ripreso anche Dal piccolo Nei giorni scorsi Quanto lei ha detto Proprio qui a Ringo Un mese fa Cos'ha raddoppiato Il costo Allora A suo tempo 800 mila Per spiegare ai cittadini Quando la Trieste Trasporti Mi chiese 800 mila Per la chiusura Per un anno e mezzo Della galleria Perché avrebbe fatto Con gli autobus Il percorso Io dissi Con un milione 800 mila Un milione Facciamo Una struttura Che la mettiamo All'interno E così non chiudiamo Adesso Quella struttura Viene a costare Un milione 6 perché L'acciaio È aumentato Del 50 60% Allora Adesso Stiamo trattando Quella ditta Gli ho fatto fare Dei calcoli E ho detto Se voi Se voi pagate La Trieste Trasporti Vi posso anche chiudere La galleria Per 40 giorni Perché a quel punto 40 giorni Basterebbe Notte e giorno Sì Notte e giorno Arrivano le mega macchine Perché cosa c'è da fare Con il cittadini C'è da fare i buchi Così E poi sparare dentro Il cemento È una cosa anche Abbastanza semplice Non è una cosa complicata Per cui stiamo trattando Che se loro pagano La Trieste Trasporti In questo periodo Io li posso anche dare In 40 giorni Cari con cittadini Faremo 40 giorni Di sacrifici Però in 40 giorni Potremo fare Veramente un grande lavoro Che fai Scomodo Non capisco Guarda Te le regalo io L'aveva già detto L'altra volta E siamo a Natale Non l'hai neanche portato Per la Befana Per la Befana Ti regalerò Le due sedie Va bene Pochi istanti Continuiamo a parlare Con il sindaco Il Trieste Roberto Di Piazza Vi aspettiamo No che sono Allora non l'avessimo mai detto Ora mi arrivano altri messaggi Di chi dice Conferma che le sedie Altri ospiti Che le sedie di 3 e 4 sono scomode No no Potete fare una colletta Non è che No figurati Insomma No queste sono molto belle Da vedersi Però Io sto sempre in piedi Sindaco Mancano i poggioli Sì Va bene I braccioli Allora L'altra polemica Tra l'altro Ribadita Innescata Qualche settimana fa Dopo la sua intervista C'è stato ospite Francesco Russo E aveva lanciato Questa cosa Dei distretti La riduzione Dei distretti Sanitari Per Trieste Come fosse uno svilimento Lei Che cosa dice Da sindaco Di questa città Allora Innanzitutto Tutto potete dirmi Meno che non mi occupi Nella città Quel giorno Che hanno presentato Questo piano Devi capire una cosa Una volta Quando bisognava Sistemare qualcuno Si faceva un nuovo Dipartimento Difatti mi sembra Che abbiamo addirittura Quattro dipartimenti Per la salute Cioè parli di un poltronificio Sto parlando Eh Allora Non entro nel merito Perché non voglio Non voglio querele Però ripeto Signori miei Cerchiamo di capire Che bisogna fare le cose bene Cercare di andare avanti E non mantenere le poltrone Io avevo 64 Dirigenti nel 2000 Ne ho 25 Bisogna cercare di risparmiare Di far funzionare bene La macchina E questo è quello Che stiamo facendo Insieme con Riccardi E con Poggiana E ovviamente Con il Presidente Fedriga Per cui Tutte queste polemiche Finalizzate Al nulla Ripeto Che non racconto Tutte le verità Che potrebbero essere Però se dice così Ho capito Ma dopo se dico i nomi Mi querele Non lo dica qua Che se no ci becchiamo La querela in due Però Esatto Diciamo abbastanza Lottizzato Il tutto Mettiamola così Ho capito E chi E chissà Mi sembra che Sia stato chiaro Esatto Il problema della politica Però Ho capito Ripeto Anch'io avevo 64 dirigenti Adesso ne ho 25 Vorremmo un ringraziamento Anche noi Della vigilanza privata Armata E non in quanto Siamo impegnati Sempre feste E non ancora di più Vabbè immagino In questo periodo Lavorano tanto Io ringrazio tutti Tutti i ragazzi Ma soprattutto Chiedo a tutti i ragazzi Quelle risse Che abbiamo visto Cioè ragazzi Stiamo attenti Insomma Noi Via Diaz Eccetera Perché dopo bisogna intervenire Dopo dobbiamo chiudere i locali E facciamo solo che danno Per cui cerchiamo di comportarci Bene Si può bere un bicchiere Ma senza fare quei casini Che ho visto In questi giorni Come lo passa a Natale? Beh qui Vado a salutare la mia mamma Ti ricordo che fa 95 in marzo Complimenti Eccola E dopo passo con i suoceri A Cervignano Che augurio fa questa città? Perché sai Io lo dicevo prima Noi speravamo finalmente Che fossimo fuori No Però Quest'anno però E' diverso Lo scorso anno Era un disastro Con la zona rossa Quest'anno E' una gioia E' una gioia Almeno per me Dopo non so Camminare per la città Illuminata Con la gente Ci sono anche più sorrisi Proprio Vedi che la gente Più serena Lo scorso anno Era un disastro Certo Abbiamo tutti la mascherina Ogni tanto Guardi qualcuno Che non lo riconosce Però insomma Non è un Natale E' un buon Natale Mettiamola così E' un buon Natale Senta Vero che per il Carciotti Ci sono offerte? Per il Carciotti Subito Spieghiamo ai cittadini Subito dopo La conferma del sindaco Che poteva essere uno o l'altro Ma hanno confermato me Tutti sono arrivati Tanto per diti Gli austriaci Che hanno comperato Il palazzo di fronte alle poste Avete presente Quello delle ferrovie Sono arrivati in forze Sono già partiti lavori Hai visto 160 camere Albergo Pianta commerciale Ristorante sul tetto Piazza Vittorio Veneto Quella fatta da L'architetta Come si chiama? Boris Podreca Che non piace ai triestini Non piace neanche a me E allora sono riuscito A strapparli Che faranno anche un progetto Di restauro Di quella piazza Quella piazza Che diventerà un po' Come piazza unità Col caffè degli specchi Avete presente Faranno il bar Ristorante Sul davanti Dove c'è la fontana E diventerà una cosa simpatica E allora Ci siamo confrontati E gente molto Molto tosta Che investe moltissimo Ci saranno anche appartamenti E' enorme quel palazzo E' presente Quello di fronte Proprio Proprio una cosa Molto simpatica E si sono impegnati Per iscritto Mi hanno mandato una lettera Ah firmato Sì Che metteranno anche le mani Che naturalmente Presenteranno un progetto Perché quella piazza Vittorio Veneto Non è mai piaciuta Ai Triestini Io l'ho solo inaugurata Perché era già stata fatta Quando sono arrivato Nel 2001 Quella fontana No la fontana C'era sempre Sì ma quella lì Non mi è mai piaciuta Con quei cartafai Che lì Col verde Quindi viene rifatta Presenteranno un progetto Se ne occupano loro Adesso loro per iscritto Presenteranno un progetto Che poi dovrà essere approvato Dalla sovrintendenza Certo Oltre che dal comune Però sono convinto Che quella parte Di quella piazza Lì diventerà molto simpatica E poi per spiegare ai cittadini Ripeto Ci sarà tipo Il caffè degli specchi 2 Perché metteranno Le sedie sulla piazza Diventerà una cosa Molto simpatica Di fronte alle poste Poi Ho visto che la FFP2 Costa come un litro di terrano Quindi evidentemente Sono una dura scelta Del telespettatore Ha detto che la mascherina FFP2 Costa di più Quindi c'è una Una valutazione di questo Costa quando un litro di terrano C'è un'altra cosa Che le volevo chiedere E poi so che Qualche tempo fa L'anno scorso Mi ha fatto un bellissimo servizio Con Bernardo Gulotta Sulla Non hanno fatto Dipendenti Entrare a lavorare Quelli che non sono ancora vaccinati Motivo? Beh I nasugi oggi Non lo so Però In teoria Chi non è vaccinato Non può andare A lavorare Delle sanità Che vadano a vaccinarsi Pubblica C'è una legge Visto i numeri Che abbiamo con la pandemia Andate a vaccinarvi Dico io Andate a vaccinarvi Comunque ho chiesto Una cosa del genere Io e lui Siamo vaccinati Mi sembra che stiamo bene Che non abbiamo problemi Terza dose anche Terza dose Fatta già un mese fa Io e mia moglie Per cui dico Andate a vaccinarvi Che la cosa Hai visto anche in Carso Queste persone Che si curavano da soli Che poi sono decedute Naturalmente Condoglianze Di famiglie Però dico Perché non andate a vaccinarvi Non riesco a capire Perché la gente Non va a vaccinarsi Veramente faccio fatica Stavo dicendo Con Bernardo Cullotto Abbiamo fatto Quellissimo servizio Raccontando Di tutta quella Pista ciclabile Che è molto ballerina Diciamo Siete sempre Voi siete sempre Cattivissimi Certo Vedi che serve? Difatti ho messo 450 mila euro 450 mila euro Cittadini Che parte dal ponte Di ferro Del Portovecchio E arriva fino alla Marinella E oggi uno ha chiesto E dopo della Marinella E dopo la Marinella In bicicletta Prendi la costiera Volevo rispondere Nel senso che C'è sempre qualcuno E dopo naturalmente Quindi sarà rifatta Completamente 450 mila Alti 300 mila Le abbiamo messi Che stiamo allargando Sapete che hanno messo Quel pino marittimo A Barcola Che vengono fuori Con le radici Dal bivio Arriviamo fino Alla pineta Di Barcola Che stiamo allargando Perché queste radici Buttano su Tutti questi Binderi E naturalmente È un problema Quindi lo fa simile A quella Della pineta Che ha allargato Ho allargato Dappertutto Un'idea del sottoscritto Confrontandomi Con i miei ingegneri Forestali E portiamo Avanti anche questo Per essere pronti In aprile Quando parte La stagione Balneare Che sia tutto a posto Non come quest'anno Che stai radici Avevano alzato Tutti questi Tozzetti E fracasso? Ha aggiunto Un altro Mi pare un altro progetto Ha comprato Ha comprato L'officine Oils Altra cosa infinita Da 20 anni Che sentivo parlare Di quest'officine Oils Sai dove sono? Dietro La via raffineria Là dietro Che sono dietro All'Ittis Praticamente Per dire verità Non ho letto L'articolo Perché è una cosa Fra privati Non sapevano anche Che aveva Comperato Quest'officine Però Sembra che vuole fare Appartamenti Non so Ma ripeto Un investimento diverso Rispetto agli altri Invece che No Invece Noi stiamo lavorando Per portare Il mercato Ortofrutticolo All'ex fabbrica tabacchi A cui seguirà Immediatamente Il mercato Del pesce Tutti i due L'ex fabbrica tabacchi Basta Non si muovono più Giusto sindaco Quella è la sede Ma no Sai Non si muovono Avevamo comperato Quell'altra sede Che poi l'abbiamo pagata Un milione e cento L'abbiamo venduto Un milione e sei Per cui Non ci abbiamo rimesso Però con l'idea Che cadono i confini Con la Croazia Che d'estate Che hanno milioni di turisti Potrebbero venire anche Nei nostri mercati generali A prendere frutta e verdura È una realtà Guardate che Padova Fa 350 milioni all'anno E manda nell'est europeo Centinaia di tir Alla settimana Che riforniscono I vari mercati Lubiana Cecoslovacchia Ungheria Croazia Slovenia stessa Insomma Rojano conferma i tempi Ah Rojano Ecco vedete Ci sono sicuramente Anche delle problematiche Con i cantieri Vedi tram di opicina E vedi galleria Però dopo Ci sono anche Le soddisfazioni Rojano È una di queste Abbiamo gettato Lunedì Pensate Il tetto Dell'asilo Gettato Per cui Adesso sto lavorando Con la Nicole Matteoni Che vediamo Di dire ai genitori Probabilmente Potremmo essere pronti A settembre Però dobbiamo vedere Le due opzioni Perché se dopo Non siamo pronti Dove mettiamo i bambini Allora adesso Chiameremo i genitori Ci confronteremo Vediamo Sono convinto Però che ce la faccio Perché la ditta È molto seria Una ditta di Modena Che ha lavorato In maniera straordinaria Lì avremo L'asilo 60 posti 600 metri di giardino All'interno Perché l'asilo È tondo E i bambini Avranno Ecco per tuo figlio Potrei portarlo Da Avranno Questo giardino All'interno 99 posti In macchina Un'enorme cisterna Per l'acqua piovana Che così Non andremo A prendere l'acqua Dell'acquedotto Ma avremo L'acqua piovana Perché sarà Molto Ci sarà Molto verde Sarà un bosco urbano Ci sarà Moltissimo verde È una cosa Veramente ben fatta Però non ho mai visto Lavorare così bene Pensate Che in una giornata Hanno gettato 46 cubi Di cemento armato Vuol dire 46 Betoniere 460 cubi A 10 A 10 cubi A betoniera Pensa in una giornata Gente veramente Speciale Qui le dicono La palestra Caprin Sei anni che è chiusa Le dicono La palestra Caprin Verifichiamo Sindaco Verifichiamo Adesso stiamo lavorando Per allargare Quella di Ah la Caprin Sì Salita di Giuliano Beh certo Adesso partono i lavori No no Chiedo scusa È colpa sua Che mi confonde Al presidente Dove c'è la chiesetta Siete Giuliano Su vai su C'è la scuola E là questa palestra Si è mossa Naturalmente fatta A suo tempo male E adesso Abbiamo messo i soldi Adesso partiranno i lavori La Caprin È molto importante Perché è una palestra Enorme E abbiamo bisogno Di queste palestre Che serve Molti ragazzi Tra l'altro Scrivono anche qui Che fine ha fatto russo Ho perso la parola Dopo la sconfitta No anzi Spesso L'attacca La punzecchia parecchio No no Ma no Non so Chi lo Consiglia Nel senso Che non Credo che si può Allora C'è un momento Per le elezioni Dopo adesso Io sono sindaco Ma lavorate insieme Allora siamo Insieme Ma Lui continua A tirare freccette E lavorerà Per conto sua Probabilmente Allora sto dicendo Io adesso Sono il sindaco Di tutti Cerchiamo di Collaborare Il momento E come dico io Veramente magico Per la città E datemi atto Siamo pieni di soldi Fino a qua L'altro giorno Poi abbiamo fatto Con Friulia Che sai che arriva L'investimento Di British American Tobacco Per cui abbiamo fatto L'aumento di capitale Si sta parlando Di 500 milioni Di investimento Dico una volta 5 milioni Era una roba folle Hanno già Il comune di San D'Oligo Della Valle Ha già approvato Abbiamo proposto Anche di intitolare A Giacomo Boruso L'interporto Sud di Fernetti Che mi fa piacere Perché era un grande È nata con lui Quella volta L'idea Di comprare I 30 ettari Della Varsila Per cui è un momento Di quelli Cari concittadini Da accogliere Da accogliere Da lavorare Tutti insieme Perché non avremo Mai più tanti soldi Come adesso Allora ricordo Tra poco Saremo Tanto per spiegare Ai cittadini 416 Là Il porto 173 Adesso sono venuti fuori Altri due Che ti dicevo Che l'altro giorno L'altra volta abbiamo fatto Tutto il conto E in effetti Bisogna aggiungere i due D'acqua marina Tra poco avremo Il presidente Fedriga Con noi Rispetto all'intervista Fatta nel tardo pomeriggio Ricordo appunto C'è una novità Sul fronte Le discoteche Che invece stanno chiuse Ma insomma Deciso Questa sera Non ho capito Il Carciotti cosa mi ha detto Sei offerte Allora sono arrivate Due offerte scritte Due offerte scritte E immediatamente Dopo Perché dovrebbe essere La volta buona Capisci Ti spiego Dopo la rinomina Dopo l'arrivo Del nuovo sindaco Gli investitori Hanno aspettato Che arrivasse un sindaco Indifferente Se era lui O se ero io Adesso ci sono io Sono arrivati Hanno mandato Questa proposta scritta Attenzione Davanti Hanno proposta scritta Il comune Metta all'asta L'immobile E dopo naturalmente Potrebbe vincere Quello che ha fatto La proposta O se sono altri E sono in sé In tutto Vediamo Comunque è una bellissima cosa Anche perché Se mi arrivano Questi 15 milioni Sono ulteriori 15 milioni Da investire Non avremo problemi Per esempio Con l'investimento Dei mercati Perché avremo Così potremo fare Anche un po' Di marciapiedi Perché sono 15 milioni Di investimenti Attenzione Spiego sempre I cittadini Corente E investimenti Sono due core Differenti Il Insomma Lei lo conosceva Di sicuro Franco Bazzara Del Torre Fattore Sì Insieme al fratello Una famiglia Qui in questo studio Oltre ad aver rilanciato Il tema Del patrimonio Unesco Che poi ha rivisto Nei giornali In tutti questi ultimi giorni Quindi caffè Trieste E Napoli Ci vuole anche un simbolo Due anzi In particolar modo Una giornata Del caffè gratis A Trieste Che sarebbe anche un modo Per attrarre nuovi turisti Come simbolo Ma anche Una tazzina All'ingresso Della città Come c'è la sedia Nel distretto Del legno Dei mobili Una tazza Dove la immagina Le piace L'idea Dove la metterebbe Dobbiamente La sedia Che c'è a Manzano Non è male Però il problema Della città Tutti mi chiedono Mettiamo le roulotte Dico Ma per trovare Un posto A Trieste Sai in Friuli Prendono quattro campi E fanno un posto Per le roulotte Dalle tue parti Prendono quattro campi E fanno un campo Di calcio Qui a Trieste Trovare degli spazi enormi Non è facile Cioè Ogni volta Che dobbiamo fare Delle cose Non è così semplice Parcheggi Eccetera No, sì Non è che deve essere visibile Dalla luna La tazzina Però No, oggi Oggi invece che ero lì Della piscina terapeuta Ti do una chicca Ho deciso invece Che faremo Un distributore di benzina Perché non è pensabile Che una città Quello per le barche Per le barche Sì L'aveva detto Lì hai presente Davanti l'acqua marina Però non si può fare Solo un distributore Per le barche Perché non sta in piedi Sotto il punto di vista economico Allora faremo Una rientranza Per le automobili Che così faranno Benzina Gli automobili E poi Le barche Che si avvicinano Dal mare Potranno fare Lei che toglieva Gli distributori di benzina Ne mette uno Adesso Eh no Ma questo è indispensabile Io ho tolto i distributori Con piano carburanti Ringraziamo il buon Dio Che l'abbiamo fatto Perché poi Vedete che Tutti vanno A fare benzina Dove li convene di più Poi vanno in Slovenia Comprano due stecche di sigarette E la benzina Risparmono 50 Euro Questa è la realtà Insomma Però le zone di confine Sono così Una volta si andava in Svizzera Adesso tutti i svizzeri Vengono in Italia Una volta corre la lepra Una volta corre il cane Dunque Via Gardoni Con quando il comune Se ne occuperà Per buche E anche per il verde Che danneggia le escezioni private Questo poi se lo segnalano Anche durante le puntate Di svegliere Via Gardoni Chi sa dove è Via Gardoni Metti un attimo su Facebook Come su Facebook Su Google Maps Via Gardoni E' la prima volta che la sento Gardoni Vabbè Prendo nota Gardoni Gardoni Si iscriva Le mando una pec Mandami Mandami Tu Tecnologico Via Gardoni Va bene Sindaco Adesso Allora Auguri per il figlio Grazie di cuore Buon Natale a te E auguri alla città E la tua Giulia Alla mia città Tanti auguri Che sia un Natale In famiglia Sarà un bel Natale Per la nostra città Spero E sarà sicuramente Un 2022 Fantastico Speriamo Lo sarà Lo sarà Perché abbiamo Tanta tante cose Come non mai In questo momento A Trieste Dal Porto Nuovo Al Porto Vecchio A tutti gli investimenti Che stiamo mettendo Io questo le volevo chiedere Sia Ex Fiera Che Campus Di Via Rossetti Ne avevamo parlato Anche l'altra volta Ex Fiera Abbiamo detto Che c'è La Regione Loro devono fare Tanto per spiegare Velocemente Rotatoria Hai presente Sulla Via Sette Fontane Rotatoria E la Fiera Cede un pezzo Che verrà fatto L'ultimo pezzo Di Via Rossetti A doppio senso E lì si sono incartati Su quante automobili Passeranno Eccetera La solita cosa All'italiana Si chiama Burocrazia Campus Che Campus Lei ci crede ancora Vuole andare avanti Ero ieri a Galilei Con i ragazzi Certo che ci credo Anche perché abbiamo Le scuole superiori In condizioni talmente Precarie Ho avuto il contatto La scorsa settimana Con Cassa Deporti e Prestiti Gli ho detto Che voglio comprare E basta Ho mosso questa volta Anche la politica romana E aspettiamo Mi hanno detto Che mi danno una risposta Entro fine anno Siamo al 22 Domani al 22 23 non è male Cosa le dicono gli albergatori Siamo al 23 o al 24 Domani al 24 Ah ecco Oggi siamo al 23 Per cui In 7 giorni Avremo risposta Appena mi arriva la risposta Ci vediamo Che c'è Forte preoccupazione Per gli albergatori O non solo Cosa le dicono Sono arrivate molte disdette O è un Natale Non enfatizziamo Abbiamo qualche disdette Ma vedrete che arriva Io so Che dai messaggi che arrivo Che arriva gente Dappertutto A vedere la nostra città La nostra piazza Allora diciamo che mettiamoci Anche un po' di positività Perché se diciamo Che moriremo tutti Questo non va bene Insomma Commercialmente parlando Dicevo O ha sbagliato O è via dei Giardini Ah ecco Perché O è via Gardoni Ma è a San Dorrico della Valle Ah ecco O è via Guiliano Marconi E magari col correttore No ma ecco Via Gardoni No allora Ho fatto un figurone L'unica via Che non conosce il sindaco Non è possibile Via Gardoni Siccome conosco le pietre Della città Via Gardoni Non la conoscevo Grazie Grazie sindaco Grazie a voi Grazie a voi Grazie a voi Strabberto di piazza Auguri Tanti auguri a tutti Buon Natale E un felice 22 Grazie A tra poco Con il presidente Massimiliano Fedriga Grazie a presidente Massimiliano Fedriga Grazie per essere con noi Grazie a voi Giornata Bella dance Conferenza di fine anno Poi l'incontro Con Roma Per decidere Non a confrontarsi Su molte Molti aspetti E poi anche Del PNRR Avete parlato oggi Vero? Ho fatto anche La cabina di regia Però prima di tutto questo A quello che abbiamo capito Il governo dice Mascherina obbligatoria L'aperto Quindi ovunque FFP2 FFP2 E anche del Super Green Pass E anche del Super Green Pass Ovviamente Mentre dal primo febbraio Scenderà a sei mesi Quindi c'è tempo per organizzarsi Mi dà un commento su queste Su queste Cambiamenti? Ma no Devo dire che mi sembra Io non ho ancora visto il decreto Anzi perché devono ancora Trasmettercelo E quindi non so cosa ci sia scritto In modo puntuale Rispetto a questa cornice Che giustamente Lei ha ricordato Direi che ci Sono scelte di equilibrio Con una situazione nazionale Dove c'è un forte aumento Di contagi Qui in Frevenza Giulia Fortunatamente di fatto Siamo in una stabilizzazione Però con la variante Omicron Pensiamo anche qui Ci sarà un aumento Come sta succedendo In modo esponenziale In altri paesi europei Mi sembrano però Misure di buon senso Dove non chiudo Un'attività economica Che era quello che ci preoccupava Però diciamo Alla fin fine Lei oggi ha anche fatto Una fotografia Dicendo Si sta un po' raffreddando La curva Qui in Frevenza Giulia Raffreddando È stabile Non ha più L'aumento esponenziale Che vedevamo Nelle settimane precedenti Va Una settimana Va più di 10% Una settimana Va meno di 10% Si è stabilizzata circa Le ospedalizzazioni Sienere mediche Che andrea più intensiva Sono costanti Però è una fotografia attuale Purtroppo questo virus Ci ha abituato A sorprese E molte volte Non sono belle Quindi dobbiamo Ovviamente cercare Di resistere Soprattutto la parte ospedaliera Che è la parte principale Tenere sotto controllo I ricoveri E dall'altro Non penalizzare l'economia La scelta anche Che abbiamo messo in campo Con il decreto Sul super green pass Va proprio in quella direzione C'è garantire L'apertura delle attività Anche in zona arancione Non soltanto in gialla Proprio perché Il sistema economico Lavorativo E dell'impresa Italiano E della nostra regione Possano rimanere aperti E avere la prospettiva Di rimanere aperti Ovviamente dobbiamo usare Attenzione E quindi Partecipare alla campagna vaccinale Usare le mascherine Tenere il distanziamento Però rispetto all'altro anno Un altro universo Io ricordo che lo scorso anno Perché qualcuno sento dire Non è cambiato niente Con i vaccini È un altro universo Non siamo nel 2019 È chiaro quando non c'era il virus Ma non siamo nemmeno Come l'altro anno Dove oggi Il friulenza Giulia Nell'area arancione Si apprestava a diventare rossa Se non fosse chiaro L'altro anno I ristoranti erano chiusi I bar erano chiusi Le piste da sci erano chiuse Gli hotel erano chiuse Le piscine erano chiuse Le palestre erano chiuse Oggi possiamo fare Tutte queste attività Quindi c'era il coprifuoco Voglio dire È veramente un altro mondo Poi i dati Dell'occupazione degli ospedali Che ha detto che sono La metà più o meno Ma lo possiamo Perché quindi possiamo Permetterci queste misure Perché l'occupazione Dei posti Senta in terapia intensiva Che nella medica Sono la metà Dello scorso anno Ma il grado di contagio Sia simile Quindi quest'anno Facciamo tutto Abbiamo un po' meno Di contagi dell'altro anno Ma non troppo Ma abbiamo la metà Dei ricoveri Vuol dire che il vaccino Sta funzionando E sta funzionando bene Dopo dovremo fare il richiamo Dovremo fare la quarta dose Non spieguiamo nemmeno Abbiamo un'arma Che la scienza ci ha fornito Utilizziamola E cerchiamo di ritornare Ovviamente A rifare tutto E quello che mi auguro Con meno restrizioni Anche in futuro Perché anche a me Non piace mettere la mascherina Anche a me Non piace tenere il distanziamento Però Se queste sono le armi Che oggi abbiamo Per combattere la pandemia E tenere tutto aperto Facciamole Poi non ci sarebbe Ci sarebbe niente Feste all'aperto Fino al 31 gennaio E discoteche Si entra con Terza dose O due dosi Il tampone Esatto Quello di cui avete discusso Si sono le grandi feste Quelle di Capodanno Principalmente Non si fa Capodanno Quindi l'idea Di non fare i Capodanni In piazza Perché ovviamente Sono tutte zone Diciamo Momenti a rischio Uno festeggerà in famiglia Insomma E per quanto riguarda Invece Le discoteche Il governo ha ritenuto Che siano Diciamo luoghi A cui prestare Maggiore attenzione Quindi rimangono aperte Perché anche questo L'altro anno Le discoteche È totalmente chiuse Anzi Fino a poco tempo fa Sono rimaste chiuse Purtroppo Però Si può accedere O con la terza dose O con il vaccino A due dosi Più il tampone Ecco A proposito di tampone Non è passata Dal confronto Di oggi pomeriggio Il tampone Anche per i vaccinati Per il cinema Teatro Assolutamente Lei era contrario Io ero contrario Ma perché? Ero contrario Perché intanto Voglio Il tampone Soprattutto quello antigenico Quello che facciamo Qualcuno lo vende Soprattutto chi è contrario Al vaccino Come se fosse Molto più sicuro Del vaccino Non è vero Il tampone Antigenico È la fotografia Di un istante E prende soltanto Se si è al picco Della virulenza Cosa significa Che se Una persona Oggi è positiva Ma non ancora Ha ricevuto il picco Il tampone Risulta Antigenico Negativo Quindi Riduce il rischio Sicuramente Quello che il molecolare Troverebbe Il molecolare Riesce ovviamente In questa curva Riesce a prendere Anche la parte più bassa Il molecolare E quindi È ben diverso Secondo passaggio Se noi diciamo A chi partecipa Alla campagna vaccinale Chi magari fa la terza dose Direi via anche i tamponati È chiaro che Sembra che non abbiamo fiducia Nel vaccino Invece bisogna avere fiducia Perché i dati oggettivi Oggi dimostrano Che il vaccino funziona Ultimo passaggio Il vaccino A differenza del tampone Riduce il rischio Di malattie grave Il tampone Non ha nessun scopo preventivo È solo una fotografia Il vaccino invece C'è uno scopo preventivo Perché riduce il rischio Di malattia grave Che è il dramma Del coronavirus Perché se noi avessimo Se il virus fosse qualcosa Perché uno rimane a casa Ha la febbre Sta un po' male Poi ritorna La pandemia sarebbe finita Saremmo di fronte all'endemia E quindi non servono più problemi Il problema è la malattia grave Cioè quando gli ospedali Vengono saturati E su questo Noi stiamo cercando Ovviamente di combattere Di resistere Il vaccino sta dando Ottimi risultati Le volevo chiedere Una cosa personale Presidente Anche perché ha avuto Un eco grande Com'è la sua vita Sotto scorta No vabbè Sì invece È l'ultimo dei miei problemi Insomma in questo momento No senz'altro però Lei Abbiamo detto più volte Lei ha dimostrato Una leadership Rara forse In questo paese Con quella conferenza stampa Con quelle parole Guidando Finalmente forse Diciamo una schiera Di governatori Di amministratori Dicendo chiaramente Quali sono le fake news E quali sono le notizie vere Non è una cosa da poco Quel passaggio Che lei ha fatto Le ha fruttato Queste minacce ulteriori Perché poi Non erano di certo Le prime Sì ma voglio dire Il badisco Questo è l'ultimo dei problemi È chiaro che Uno soprattutto Per quanto riguarda La vita privata Più che quella pubblica Deve organizzarsi Quando esco con la mia famiglia Mi piacerebbe essere Con la mia famiglia da solo Però Devo ringraziare intanto Gli uomini della Polizia di Stato Perché veramente Oltre a essere grandi professionisti Hanno anche un'attenzione Una delicatezza Perché ovviamente Uno entra nella vita privata Di una persona Quindi sono ottimi professionisti Detto questo Insomma finirà anche questo momento Io spero Se devo fare Un augurio Non è la scorta Non la scorta Ma l'augurio Che finisca il prima possibile Questa pandemia Perché sia per I nostri cittadini Sia anche dal punto di vista personale Perché le assicuro Fare per due anni Il governatore In mezzo a una pandemia Da due anni ormai Dura questa pandemia Cioè È uno sforzo quotidiano È un Ma soprattutto anche I dubbi Che io non ho certe Perché vedo che qualcuno Magari sui social Ha certezza assoluta Come scura l'analattia Che il vaccino non serve Che è tutto Io certezza assoluta Non ce ne ho Cerco di affidarmi Alla parte scientifica Di appoggiarmi A dei dati Il più possibile Oggettivi Per compiere le scelte Mi auguro Migliori possibili Errori ne faccio Sicuramente Ma Chiaramente In mezzo a una pandemia Errori possono fare Perché certezze Nessuno Secondo me Le ha Però All'interno di quei dati Noi cerchiamo Di cogliere Diciamo Le scelte più opportune Per dare risposta Alla nostra gente È difficile Perché è difficile Perché uno Ha una responsabilità importante Ogni giorno Succede qualcosa di nuovo E magari anche di negativo Bisogna dare risposta Bisogna realizzare Bisogna per esempio Pensiamo alla campagna vaccinale Mi rendo conto Quanto stiamo mettendo Sotto pressione Il personale sanitario Che ringrazio enormemente Anche le prenotazioni Un po' difficoltoso Perché si va avanti parecchio Con le giornate Le prenotazioni Noi abbiamo Dei vaccini disponibili Delle persone In un numero Che non è infinito Per fare i vaccini Noi quello facciamo Abbiamo superato Anche gli obiettivi Nazionali Però Dei limiti esistono Sono dei limiti fisici E voi pensate Che sono dei sanitari Che non fanno di fatto le ferie Non riescono a staccare un attimo Ed essere sempre sotto pressione Sempre Sempre 365 giorni all'anno Non è semplice per loro Resto su questo un attimo Perché ha avuto grande Ecco la notizia Del vero Presunto tentativo Di occupare La direzione sanitaria Dell'ospedale di Pordenone Il nodo sarebbe stato No Non volevamo occuparlo Volevamo porre il tema Che ci sono molti sanitari Non vaccinati Che andrebbero sospesi Che in realtà Continuano a lavorare Cioè i controlli Si fanno Non si fanno Si agisce o meno Su queste persone Come da decreto Noi facciamo tutti i controlli Nelle aziende Negli uffici di lavoro Pensi che qui in regione Noi facciamo i controlli A campione regolarmente È chiaro che sono fatti a campione Non è che viene fatto ogni giorno Sul 100% del personale Sono fatti a campione Anche per esempio In regione Frivenza e Giulia Anzi noi ci avvaleremo Esattamente di nuovi strumenti Così da poter fare in automatico Però viene fatto tutto Quello che prevede la norma E devo dire sinceramente Che mi sembrerebbe assurdo Che un sanitario non vaccinato Sapendo che non può andare Va allo stesso Cerca di ovviare Superare Nascondersi dai controlli Almeno la responsabilità Di chi fa sanità In quel mondo Penso Mi auguro ci sia Si è un po' raffreddato Quella pressione Che arrivava da Trieste Secondo lei Di manifestazioni È oggettivo È oggettivo che si sia raffreddata Dopodiché mi rendo conto Che c'è ancora tensione nel paese C'è ancora tensione Tra una fetta di popolazione Una parte penso Se sia convinta Abbia capito Che magari Molte notizie che leggeva Erano notizie false Erano notizie che Gli allontanavano Dalla propria salute E devo dire che Vedo una situazione Migliore rispetto a qualche mese addietro Sicuramente ribadisco C'è ancora Io mi sforzo Non so se mi illudo Di parlare Che anche le parole che dico Arrivino a queste persone Possano convincersi Che stiamo combattendo Una battaglia difficilissima Ma dobbiamo farlo tutti insieme Per vincerla Ma Il rischio Anzi il paradosso poi È l'opposto Cioè che Guardando il Natale di quest'anno Certo i numeri sono quelli Che ha detto lei Certo è molto meglio Rispetto all'anno scorso Ci salterà il Capodanno ancora Voglio dire nelle piazze Nelle piazze però Certo Certo Però uno dice Andiamo in discoteca Ma non si fa il Capodanno all'aperto Quindi sono sempre delle storture O delle valutazioni No adesso ci arriviamo Però che fatta la terza Sarà necessaria la quarta Guardando sempre Israele Cosa fa che è un po' più avanti degli altri Sarà necessaria la quinta Sarà necessario Diventerà il vaccino antinfluenzale Normale di ogni anno Questo lo diciamo ormai Da quasi due anni Ed è abbastanza chiaro Però Che anche un'altra fetta della popolazione Si stanchi Cioè quindi Non abbia più voglia di fare sto vaccino Di seguire tutte queste indicazioni La valutazione c'è A questo punto è meglio renderlo obbligatorio Ma non è una questione di valutazione È una questione di dati E di scientifici I dati scientifici Che ovviamente si aggiornano Fanno e testimoniano Che c'è un decadimento della protezione E allora noi cosa dobbiamo fare Incentivare la gente A farsi le dosi di richiamo E questo è Non è che uno fa una decisione Di carattere politico Mi piace o non mi piace È una questione Che noi dobbiamo proteggere I nostri cittadini Dobbiamo proteggere i nostri ospedali Per proteggere anche tutti coloro Che hanno altri tipi di patologie Sono scelte obbligate Non è che possiamo decidere No vabbè ma dai Può dar fastidio Non facciamolo Perché rischiamo di mettere a rischio La salute della nostra gente Non possiamo permettercelo Stiamo prendendo delle responsabilità Indicando questa via Non c'è dubbio Ma qualcuno invece pensa Che per fare il fenomeno Deve dire che Ci sono delle cure alternative Al vaccino Che salveranno tutti Come sento dire Che ci sono le cure domiciliari Salvifiche Sicuramente Ci sono delle cure Che si possono fare a domicilio Che aiutano Ma purtroppo La gente va comunque in ospedale Va comunque in terapia intensiva Noi stiamo facendo Il cortisone Non è che l'ha inventato Qualche fantomatico Novak sui social Ma il primo ad utilizzarlo È stato il professor Confalonieri di Trieste Va bene Che è un grande esperto Di cortisone Perché inizialmente Dicevano di non usarlo Ma inizialmente Ovviamente il vaccino Non si conosceva E quindi il principio di precauzione È di non peggiorare Una malattia Dando il farmaco sbagliato Confalonieri Che è un grande professionista L'ha sperimentato Sapeva come utilizzarla Visto che funziona Dopo 8 giorni Ma anche quello Non bisogna darlo a tutti No perché altrimenti Abbassa la risposta immunitaria Ma neanche Non bisogna prenderlo subito E non a tutti È il medico ovviamente Che decide Ma qua c'è qualcuno Che ci racconta Che i medici Sono cattivi Non ci danno le cure Perché vogliono mandarci in ospedale Ma siamo alla follia Per questo dico Usiamo la razionalità Io so le cose No mi informo Da chi? Dalla parte medica e scientifica Punto Non è che mi improvviso Virologo Epidemiologo del 2021 Cerco ovviamente Di appoggiarmi A chi Oltretutto Ha salvato vite Perché ci sono medici Che hanno operato persone Salvato vite Date le cure Che improvvisamente Per una piccola parte Fortunatamente Sono diventati coloro Che vogliono ammazzarci Mi sembrava un po' strano Che fino a Due anni fa Ci salvavano la vita Da noi in questa parte Si divertono ad ammazzare le persone Anche una persona Adesso dico Come me Che non conosce la medicina In modo Cioè Può pensare Che il medico Si è improvvisamente Diventato un arcigno sadico Che vuole far starmare le persone E mandarli in ospedale Se ha delle armi Le utilizza tutte I nostri medici Hanno fatto un giuramento Ma soprattutto Si mettono E lo vediamo Costantemente Ogni giorno Che si sono messe A disposizione Della nostra popolazione Per dare risposte E salvarli Io non posso che ringraziarli E se qualcuno Vuole mettere in discussione Il loro lavoro Medico non è E non ha nulla a che fare Con la medicina Ma si informa Rispetto a qualche Blog complottista Ecco Direi che faccia altro Nella vita Il problema è che Vengono aggrediti anche È una vergogna Anche nei nostri Pontosoccorsi Una vergogna Cioè qualcuno Voi capite Il danno che fa Una comunicazione sbagliata È falsa Un danno enorme Cioè E chi ci salva la vita Viene da Arribadisco Da una piccolissima fetta Ma viene aggredito È una cosa Che se uno la guardasse Da esterno Dice Ma cosa sta succedendo Rischiamo la ragione Allo stato attuale No Dopo ribadisco Soprattutto con la variante Omnic Per non fare Previsioni attendibili È difficile Allo stato attuale No perché Come dicevo Fortunatamente Le ospedalizzazioni Sono sotto controllo E noi abbiamo Cambiato i parametri Proprio grazie al vaccino Dove non sono più Le RT Come era lo scorso anno Ma il numero Di ospedalizzazioni In area medica E terapia intensiva Se noi avessimo avuto Le RT Sono state le regioni A cambiare i parametri Voglio ricordarlo Rispetto anche A chi si lamenta D'altro Oggi saremo tutti in rosso Anzi da qualche mese Siamo stati tutti in rosso Perché Sarebbe stato Il numero di contagi Per certo Ma è chiaro che è cambiato Perché finché non c'era il vaccino L'RT Poteva essere un parametro Da considerare Perché ovviamente Era quanto si diffondeva il virus Oggi il parametro a considerare Essendo il vaccino Che soprattutto riduce Le malattie grave E quante persone vanno in ospedale Perché quella è la criticità Se noi salviamo l'ospedale Noi ci salviamo dalla pandemia Qualora se andassi in arancione Resterebbero le piste Da sci aperte Anche questo Nel RT Super Green Pass Che abbiamo Perché qualcuno Io leggo Guardate Posso fare un chiarimento Vedo anche qualcuno Di questi Vedo anche qualcuno di questi Vedo anche Federica ha anticipato Le Super Green Pass Di una settimana Qualche settimana fa Qualche settimana dietro Ma questi non sapevano nemmeno Che l'alternativa Era avere la zona gialla pura Certo Quindi i ristoranti chiusi Qui no Quattro massimo a ristorante Ah sì Quattro massimo a ristorante Quattro massimo a ristorante Teatri al 50% Stadi al 50% Era un disastro economico Io ho anticipato E il risultato quale è stato? Che sono rimasti aperti Che sono rimasti aperti Non solo Grazie al Super Green Pass Che abbiamo voluto Anche in zona arancione Come lei ricordava Per chi ha il vaccino ovviamente O per chi ha superato la malattia Le piste rimangono aperte Gli hotel rimangono aperti I teatri rimangono aperti I cinema rimangono aperte Le palestre rimangono aperte Io non so come si faccia veramente A incominciare a dare dei giuditi Senza nemmeno conoscere Qual è la situazione reale Io ne ho sentito tutti i colori A volte basta leggere o studiare comunque Ho capito Ma allora se uno lo fa È inutile che commenti L'avevamo detto tutti in quei giorni Cioè C'erano imprenditori Che hanno locali notturni Che la ringraziavano Perché avrebbero chiuso una settimana Per poi riaprire Un momento in cui per tutti Sarebbe entrato il Super Green Pass Che invece l'aveva fatto anticipare A proposito con questo nuovo decreto Lei ha intenzione di mettere in campo Ulteriori interventi? No Io guardi sto cercando di seguire una linea Di seguire la linea Di fare misure uniforme a livello nazionale Perché poi c'è una comunicazione nazionale Che spiega le misure Se si sommano anche misure regionali Creiamo il caos nei cittadini È già difficile per le persone Orientarsi in mezzo a tutto questo Diciamo susseguirsi di norme Di vieti Cerchiamo di non creare ulteriore caos Ci sono dei parametri Che danno delle misure Conseguenti Noi utilizziamo quelle Le misure sono quelle Chiaro Va bene Presidente La Omicron però Rischia di essere da un lato Una nuova forte preoccupazione Per l'altissima contagiosità Dall'altro Ci rassicurerebbe Perché pare che sia Quell'avvicinarsi All'influenza normale Che potrebbe essere Cosa le dicono gli esperti? Non abbiamo dati certi Ancora troppo presto? Ancora troppo presto Devo dire che c'è Uno studio inglese Che parrebbe Confermare La minor Malattia grave Dalla Omicron Quindi Che sarebbe ovviamente Un sogno Per quanto mi riguarda Però Però siamo proprio agli albori Perché i dati del Sudafrica Non possiamo prenderli in considerazione Perché in Sudafrica È una popolazione Molto più giovane Ed ha estate Quindi è proprio Un altro universo Quelli inglesi Diciamo Ci danno qualche speranza Lontana in più Però tra i pedi Vi impiantati per terra Prima di illuderci Che Si possa avere Diciamo Un passaggio Del virus Da qualcosa Di drammatico L'ospedalizzazione A qualcosa di endemico Mi auguro Se così ovviamente Sarebbe Il miglior Regano di Natale Dell'anno possibile Però Però insomma Aspettiamo Non voglio illudermi E illudere Quindi piantati per terra Adesso resistiamo Cerchiamo ovviamente Di combattere la pandemia Poi Se L'omicron Effettivamente Sicuramente Contaggiosa Come dice Quindi spazzerà via Le altre varianti Se fosse Se fosse Se desse meno Malate grave Ovviamente Sarebbe Una cosa molto positiva Mi ho già chiesto varie volte Però ci avviciniamo un po' Dai un presidente Che insomma Si trova a fare il governatore In un momento come questo Mi dice Cambia idea Basta Non ci voglio farlo ancora No è un orgoglio Incredibile Spero di farlo Primo o poi Fuori dalla pandemia Il governatore E quindi Bisogna aspettare Se dura un anno ancora Quindi Deve farlo fuori A parte mia Con un secondo mandato Come No ma io ho già dato disponibilità A candidarmi Mi piacerebbe candidarmi Per un secondo mandato Dopo Chi la dà la disponibilità A se stesso Perché Insomma è ovvio Che ricandidaranno Presidente Federica Dai No vediamo insomma Anche le forze politiche E poi i cittadini Non può votarmi Poi non basta essere candidato Bisogna farci votare Lei spesso non entra Nella partita del Quirinale Cosa grande Che affascina La politica nazionale Ma adesso Che siamo tra noi Come se la immagina invece? Siamo tra noi Quindi non si sente nessuno Giulia Lei non la sente poi nessuno No io penso che Adesso fare Nomi sia prematuro Nel senso che Bruciamo dei nomi a caso Quindi è sbagliato Anche fra qualche settimana Siccome si comincerà Un pochino a dipanare Sì ma quel Draghi Che dice Io sono un nonno A disposizione Non importa Il lavoro è stato impostato Chiunque sia il premier Quindi diciamo Io quello che posso dire Del presidente del consiglio Come lo vede Stia facendo un ottimo lavoro Penso che abbia dato Autorevolezza internazionale All'Italia E non è semplicemente Una questione di orgoglio Siamo autorevoli Ma una questione di difesa Degli interessi nazionali Un presidente del consiglio Che sa imporre La linea italiana Sa convincere Anche altri paesi A seguirci nelle scelte Vuol dire Tuterare l'interesse nazionale Vuol dire Tuterare le imprese Tuterare il lavoro Degli italiani Quindi Veramente Con anche delle critiche Che ho fatto a questo governo E se sarà necessario Ne farò altre Se dovessi riscontrare qualcosa Che reputo sbagliato Però bisogna riconoscere Il presidente del consiglio Che ha dato un cambio di passo Importantissimo All'Italia E le possibilità degli italiani Sì però Diciamo che Facciamo uno scenario Per assurdo Mi dica lei Quanto lontano è Una situazione già rivista Già vista in passato Cioè Mattarella Che magari Molto apprezzato Può fare Un periodo ristretto Con una rielezione A trattare Le elezioni Trasformare Un processo democratico Importante Come le elezioni Della prima carica Dello Stato In un danno Per il paese Dove sembriamo Coloro Che sono instabili Che è un paese instabile Un paese che non è in grado Di scegliere Un Parlamento Non è in grado Di portare avanti Nemmeno le elezioni Della prima carica Dello Stato Quindi spero Che sia questo senso Di responsabilità Cosa la rende più orgoglioso Di questo bilancio Della Regione Di questo 2021 Dell'anno passato Penso che abbiamo messo in campo Delle misure importantissime A partire dalle misure Sulla famiglia Con l'approvazione Della legge quadro Sulla famiglia Con la dote famiglia Sono decine di milioni Di Euro Io ho trovato Il Quando siamo arrivati Circa 13 milioni Meno di 13 milioni Di Euro Sulla famiglia Noi le abbiamo quasi triplicate Quasi triplicate Come spesa corrente Vuol dire che noi ogni anno Ci sono Non è una misura spot Penso che abbiamo messo Delle risorse importantissime Perché pensiamo Che investire sulla famiglia Si investire sul Fri di Venezia Giulia Abbiamo messo poi Le risorse per gli asili Indogratuito Che anche quelli Diventano strutturali E sono per tutti i cittadini Abbiamo messo le risorse Per esempio Per i centri estivi Anche qui Con una risposta enorme Da parte dei cittadini Abbiamo Perché hanno apprezzato Anche sugli asili Indogratuti Abbiamo aumentato Di 2 mila Le famiglie Che fanno domanda Erano Circa 3 mila e 5 Sono diventati 5 mila e 5 Quindi una risposta importante Non dico raddoppiato Ma quasi La partecipazione Dei cittadini In questa regione A questa misura Abbiamo messo Al futuro Con investimenti Su tutto il territorio Regionale Tra cui anche Per esempio L'ospedale di Catinara Su cui abbiamo messo Ulteriori risorse Perché quelle Messe a disposizione Che abbiamo trovato Non bastavano Tenga conto Che la mia amministrazione Metterà circa Anzi più di 700 milioni Di Euro Sugli investimenti Sulla sanità Chi mi ha preceduto Ne aveva messo Meno di 200 Tondo ne aveva messo 400 408 Quindi capite Non c'è dubbio Che da noi c'è Ancun intervento Importante del governo nazionale Ma anche in passato Comunque c'erano Dei contributi Probabilmente abbiamo fatto Un investimento Enorme nella sanità Sulle attività produttive Anche quello Ci dice Ad ogni legge Di stabilità L'opposizione ci dice Non avete visione Non avete strategia Regolarmente Però lo dicono Le opposizioni A parte inversa Sempre dai Il risultato Però qual è Che la Frivenza Giulia Quest'anno È diventata La seconda regione Per export pro capite Da Tistat L'unica che è cresciuta In modo esponenziale Prima Cemiglia Romagna Seconda Frivenza Giulia Abbiamo superato Romare di Veneto Per l'export pro capite Siamo l'unica regione Che non ha perso occupati Nel 2020 Siamo la regione Che ha la più alta Crescita di PIL Adesso Non sto dicendo Sia ben chiaro Che sia merito D'amministrazione regionale Penso però Che abbiamo dato Un grosso contributo Con le scelte Anche sulle scelte Che abbiamo fatto Per esempio Con la misura Di sviluppo imprese Con le scelte Che abbiamo fatto Per i ristori Per salvare le imprese Che rischiavano di chiudere Con le misure Che abbiamo fatto Per esempio Sulla ricerca E sull'innovazione Delle imprese stesse E questo Si presenta Vogliamo consolidarlo Nei prossimi anni Per questo Ne abbiamo messo Sulla ricerca E sul consolidamento Dello sviluppo 100 milioni di Euro All'anno Per i prossimi tre anni Una cifra importantissima Che In queste misure Per esempio Ci sono anche 15 milioni di Euro Di spesa corrente Per una partnership Pubblico privato Quindi regione Più attori privati Di carattere globale Per far sì Che investano In Frevidenza Giulia Con impianti Di ricerca applicata E questo Perché lo abbiamo fatto Perché pensiamo Che si viene un grande Player internazionale O più grandi Player internazionali Ad investire Nella nostra regione E noi ci mettiamo De risorse sostanziosissime 15 milioni di Euro Di spesa corrente Possiamo favorire La nascita di start up Possiamo rafforzare Le imprese Magari di quel settore Che sono già presenti Possiamo creare ricchezza Presidente PNRR Avete capito di più Ah mi scusi Poi sono orgoglioso Di un'altra cosa Ci tengo a dirlo L'art bonus Le misure sulla casa Noi quest'anno abbiamo messo 103 milioni di Euro Sulla casa Ma per queste misure straordinarie Che abbiamo fatto quest'anno Soltanto per l'acquisto Prima casa Più altri 45 milioni di Euro Per il sostegno 103 milioni di Euro Abbiamo messo In legge di stabilità Di quest'anno Una norma Che invece diventa strutturale Non sono misure straordinarie Come abbiamo fatto quest'anno Ma qualcosa di strutturale 30 milioni di Euro All'anno Che saranno da qui A per sempre L'amministrazione precedente Del PD Aveva messo 12 milioni di Euro All'anno Per capirci Lo abbiamo messo anche qua Quasi tre volte tanto Risultato Il Partito Democratico Utilizza i soldi Del gruppo consigliare Per fare spot Dicendo che io Non do diritto Alla casa a tutti Abbiamo messo tre volte Quanto hanno messo loro Mi scusi se surto La sua trasmissione No so che lei Si è arrabbiato già Per queste cose qui Però proprio mi arrabbio Perché uno può Legittimamente contestare Quanto faccio Magari non lo ritiene opportuno Pensa che avessimo Dovuto fare altre scelte Ma da chi ha messo 12 milioni di Euro Fa pagare con i soldi Del gruppo consigliare Pubblici Degli spot Che dicono che Federica Toglie il diritto della casa Quando ne mettiamo Quasi tre volte tanto Penso che non sia Un'opinione Penso che sia qualcosa Proprio che stravolge La realtà Uno le dice Dove ha trovato Tutti questi soldi in più Ma è perché i patti Con Roma Che sono migliorati Rispetto a Ho scelte anche Uno sono migliorati Perché gli ho fatti io i patti Non è che gli ha fatti qualcun altro Non è che dall'altra Si tieni dei soldi Federica mi è simpatico Abbiamo negoziato Abbiamo lottato Abbiamo ottenuto più risorse Lei ha detto che con il ministro Franco Addirittura migliore rispetto A quello che si sarebbe aspettato Beh devo dire C'è stato una grande Nessuno si aspettava Un risultato così Noi ovviamente Quando andiamo a negoziare Facciamo In qualsiasi negoziazione Cerchiamo sempre Di portare più vantaggi possibili Per i nostri cittadini E dica la PNRR Ne avete capito di più Cioè Perché la preoccupazione È che ora Tutti questi soldi Va bene in parte Dovranno essere restituiti Questo lo sappiamo molto bene Eccetera Però Arrivano e bisogna Spenderli subito Cioè è la preoccupazione Più grande Vabbè Dentro il 2026 Sì certo Quindi Con i tempi della burocrazia italiana Beh devo dire che Con il presidente del consiglio Proprio oggi in riunione Ha sottolineato I 51 obiettivi raggiunti Ma anche lui stesso Ha detto Guardate adesso La parte più difficile Diventa adesso Cioè spenderli E la cosa molto Condivisibile Che ha detto il presidente Draghi È stato Che le misure Anche normative Di semplificazione Che abbiamo messo in campo Non saranno sufficienti E dovremmo essere Sempre in grado Il governo Dove essere sempre in grado Più semplificazione No ma di Di vedere dove sono gli ostacoli E di intervenire in modo tempestivo Anche per fare delle norme Che possono superarli Questo è assolutamente vero Perché pensare A priori Di sapere quali saranno i problemi E risolvi antecedentemente Cioè è un'illusione È un processo estremamente complicato Quando si trova un muro Lo si abbatte Però quando si trova un muro Bisogna abbattere Non bisogna dire C'è il muro ragazzi Stiamo fermi per un anno E vediamo come è fatto il muro E andiamo a fare le analisi del muro E vediamo di che colore è il muro E stai fermo un anno Uno va là Fa una norma Lo abbatte e si va avanti Solo così se ne esce E condivido molto La posizione del Presidente Quindi transitano dalla regione Arrivano direttamente ai comuni No dipende Dipende dalle linee di finanziamento Alcuni vanno direttamente ai comuni Alcuni passeranno per la regione E magari proprio soggetto A tuttora la regione Perché dovremmo fare gli interventi Alcuni Molti saranno a bando E noi supporteremo i comuni Come stiamo già strutturando Anche quelli più piccoli Per partecipare ai bandi Cabinovia le piace? Adesso si chiama Cabinovia Non più Ovovia A me piace come idea E' un'idea Che quando si portano idee nuove C'è sempre qualcuno Che dice Non sei pol E ho visto anche In consiglio comunale Il PD E farlo L'ho fatto anche In consiglio regionale Però Ormai sono Sono mezzi Di Trasporto Compatibili Con l'ambiente Che favoriscono Il turismo E perché Trieste Non ne dovrebbe avere diritto Io questo Ci sono tante città Penso anche sui laghi Dove ci sono cabinovie Che vanno Magari nella parte alta Del lago Perché Trieste Non deve avere diritto Anche quello E' stata fatta Una campagna Denigratoria A parte opposizione Di cui non trovo il senso Dopo uno Legitivamente Voglio il tram Io penso che la cabinavia E' una buona idea Ma farla passare Come un'idea folle Mi sembra Fuori non a caso Il governo Non abbiamo Il governo C'è giusto di finanziarlo Così come anche Acquamarina Altro tema Di grande dibattito Scontro Ora di sequestrata Anche la regione Ci mette Sì ma non era dibattito Abbiamo già Le risorse del comune Non era un dibattito Il sindaco di piazza E' stato sempre molto chiaro Ha detto Finché è sequestrata Non possiamo farci nulla C'era qualcun altro Che ci raccontava Che in due mesi Doveva essere dissequestrata Anzi lo raccontava lei Se non erano Noi abbiamo detto Scusate Noi possiamo prendere in giro I cittadini Dicendo fra due mesi Viene dissequestrata Perché così non è E infatti così non è stato Fortunatamente adesso È stata dissequestrata E mi auguro Che gli interventi Siano celeri Dovranno fare Tutte le analisi Per intervenire Due battute Il suo Presidente Perché ha dei tempi Strettissimi In una giornata allucinante La prima Prima di arrivare agli auguri L'obiettivo del 2022 Cioè lei dice Questa cosa La dobbiamo fare Nel 2022 O questo obiettivo No L'obiettivo del 2022 E' riuscire a mantenere E anzi far crescere Gli ottimi risultati Legati alla crescita Di PIL Del 2021 Che non mi aspettavo Soprattutto che Il Florenza Giulia Fosse una delle regioni Trainanti d'Italia In modo così consistente Siamo sempre stati Una regione forte Economicamente Siamo una regione Del nord-est Ricco Però siamo stati Trainanti Cioè tutti ci guardano Con invidia Quasi Sono ancora un ammirazione Quindi E questo ribadisco Medico delle imprese E dei lavoratori Di questa regione Per quello abbiamo messo Le risorse In quel settore Così consistenti Perché mi auguro Di poter consolidare Questa crescita Io non voglio essere Il primo a livello italiano Mi piacerebbe essere Fra i primi A livello europeo Però bisogna costruire Il percorso E per farlo Le risorse ci sono Ci auguriamo Che anche il privato Ci scommetta Perché il pubblico Non può sostituire Il privato Noi possiamo agevolare Possiamo aiutare Possiamo semplificare Ma non possiamo fare impresa L'impresa lo fa il privato E su questo Mi auguro Che tanti decidono Di investire qua Come è già successo In alcune Come l'investimento Importantissimo di Trieste Che è stato deciso Dalla BAT Ma come per esempio La Bracola Investe altri 100 milioni di euro Trovi scose Insomma investimenti Non stiamo parlando Di 1-2 milioni 100 milioni di euro 500 milioni di euro In una regione Di 1 milione Di 200 mila abitanti Insomma Penso sono investimenti Decisamente consistenti Presente Auguri Buon Natale Anche alla sua famiglia E ai vostri telespettatori Ecco se vorrei Mare un augurio Diciamo di Natale A chi ci segue È un Natale Che non è il Natale Che conoscevamo normalmente Ma dico Non è neanche il Natale Del 2020 Quindi guardiamo La parte buona La parte positiva E sappiamo che Da questa difficoltà Ne usciamo insieme Quindi festeggiamo Il Natale Con le nostre famiglie Teniamoci per mano E continuiamo A camminare insieme Prima o poi Da questo incumo Ne usciamo Però sappiamo Che uno Non possiamo lasciare Indietro nessuno Uno Dobbiamo camminare insieme Se facciamo così Io sono convinto Mi auguro Il prima possibile Però che ne usciremo Ancora più forti Perché anche le prove difficili Ci aiutano a rafforzarsi E forse a sentire Ancora di più Quel senso di comunità Che è indispensabile Per guardare Le sfide future Grazie Presidente Grazie mille Buonaterno ancora Siamo insieme all'Arcivescovo Gian Paolo Crepaldi Vescovo di Trieste Grazie per essere con noi Grazie a voi Grazie di cuore Innanzitutto Buon Natale Ci avviciniamo Buon Natale A Telequattro Ma soprattutto A tutti i telespettatori A tutti gli abitanti Sì è una cosa un po' Un po' che mi ha molto colpito Devo dire che pensavo A questa iniziativa Di un commissario Dell'Unione Europea Di togliere il Natale Il riferimento quindi al nome Il riferimento anche alle festività religiose Ci pensavo Mentre camminavo Lì in Piazza dell'Unità Quello spendore Di tutti questi Gli alberi Addobati Che sono il segno della vita Con questa stella In fondo Dico ma guarda Dico Trieste Cerebra il Natale Ama il Natale È pronta Ad accogliere I messaggi del Natale E la Bruxelles Invece Insomma Se ne escono Con queste genialate Insomma È una cosa Che un po' Mi ha messo Tristezza Nell'animo Però Da quello che so Questa proposta L'hanno subito ritirata Anche Se devo dire Che ha fatto Molta impressione In giro Che cos'è Il segno dei tempi Un arretramento Una perdita Di terreno Appunto Anche Della Chiesa Dei valori O inclusivo Come loro Cercano di giustificare È il pensare Che L'unica maniera Per progredire Sia quello Di creare Delle discontinuità Con il proprio Retroterra Valoriale Allora Questa è un po' Per andare avanti Bisogna negare Il passato Bisogna rompere Con il passato Io credo invece Che per andare avanti Bisogna coltivare Il passato Bisogna coltivare Le radici Bisogna Andare Non secondo Le logiche Della discontinuità Ma secondo Le logiche Della continuità E nella continuità Insomma Che si può Crescere Si può Sviluppare Quell'albero Che sappiamo Ha radici Molto serie Molto profonde Dobbiamo andare Su questa direzione Guardavo il presepio Il presepio In piazza Delle unità Vedi il presepio È veramente Un'immagine Straordinaria Perché Contiene Una lezione Grande lezione Di vita E di civiltà E allora Ci sono gli angeli Che vuol dire Che Nella natività È coinvolto Direttamente Dio È il suo messaggio È la sua volontà Poi c'è quel bambino Nella culla Ecco Quel bambino È Dio Ma quel bambino Che nasce È anche uomo Quindi Nella persona Del verbo Abbiamo lì La natura divina La natura umana Unite Qui Il messaggio È chiaro L'uomo Che pensa Di farcela Da solo È un illuso È nell'unità Tra Dio e l'uomo Che possiamo andare avanti E questo è arrivato Con Cristo Poi c'è La Madonna E c'è San Giuseppe Che Cooperano A questo progetto Divino Di riconciliazione Di unione Di comunione Tra Dio E l'uomo Poi c'è Se resta attento C'è L'asino E il bue Nel presepio Noi sappiamo Che l'asino È l'espressione Della Religiosità E della cultura Ebraica Mentre il bue Interpreta La 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 Cultura Diciamo Una volta si diceva Pagana Ma sostanzialmente Era quella greca Quindi la filosofia Con riferimento Alla filosofia greca E poi c'era Il riferimento Al diritto romano Ecco che Attorno a Cristo Si Rioniscono Le civiltà Poi arrivano I remagi Sapienti Che a un certo punto Scoprono Che la vera finalità Della loro ricerca Anche al giorno d'oggi No Cerche scientifiche Tecnologiche Eccetera La finalità Trova un senso Se arrivano A riconoscere Ad adorare Cristo Poi c'è C'è La donna Che lavora E la statuetta Dell'uomo Il pastore Eccetera C'è tutto il mondo In un certo senso Nella sua operosità Che converge Verso Cristo Poi ci sono Tutte le pecorelle Le pecorelle Perché le pecorelle? Perché le pecorelle Sono E' un animale Docile E' un animale Che è capace Di accogliere Il lavoro di Dio Il progetto di Dio E in un certo senso Corrispondere A quella Che è la vita di Dio Io quando Quando presepio Mi identifico sempre Una pecorella E prego Dico sempre Una preghiera Dico Signore fammi Come quella pecorella Docile di fronte Alla tua volontà Docile Alla tua parola Docile 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 di più Docile di più Del presepio Del sindaco Di piazza Che dei commissari europei Noi di trieste Noi di trieste Il natale Ce lo teniamo caro Nel suo messaggio Io spero Che trieste Continua Continui a tenerselo caro Il natale E' un mistero grande Perché vede E' un mistero Dove Noi Pensiamo Quando pensiamo Noi stessi Insomma Nei termini E nei recinti Della nostra autosufficienza Di realizzarci Quando andiamo Andiamo in alto Su Certo E invece Dio Ci insegna Che la realizzazione Piena E nell'abbassarci Nell'essere una Di quelle pecorelle Lì E diceva lei Quindi lui Nasce in una stalla A Betlemme E lì Lui ci manda Un messaggio Straordinario Che Se vogliamo andare avanti E' la pace Che dobbiamo proseguire Non la violenza E' la solidarietà Che dobbiamo proseguire Non l'egoismo E' il volerci bene L'amicizia civile Non l'odio civile Come purtroppo Costatiamo anche A giorno d'oggi Il Natale Quello vero No Quello consumistico Eccetera Il Natale vero Quello che Che è presente E' presente anche Nella Nella Così Nell'immagine Di un Anche del persempio Più disador No E' proprio questo No Ed è un Natale E il Natale E sempre Ci interpella E ci provoca E ci provoca Anche a fare Come lo vede Come lo vede questo tempo Ne abbiamo parlato più volte Forse E' andato Con picchi Peggiorativi Di pecorelli smarrite Nessuno deve avere la pretesa Nella prospettiva cristiana Di essere una pecorella a posto Ecco Questo è un gran messaggio La seconda cosa che voglio dire C'è una parabola Del Vangelo Dove si parla di un pastore Che ha le 99 pecorelle Che sono raccolte Nel recinto Nel grigio Ma ne ha una Che è scappata Il pastore Va a cercare quella La pecorella smarrita E' la pecorella più amata E' la pecorella Che E' Soggetto di un'attenzione Particolare Da parte di Dio Quindi Dio non bisogna temerlo Perché Dio E' colui che ti ama E più sei lontano da lui Più lui ti corre dietro E' molto importante A Natale Secondo me Una cosa In questo periodo Sentiamo molti appelli Spesso anche molto moralistici Anche da parte Di uomini di chiesa Eccetera Che dobbiamo amare Che dobbiamo impegnarci Ma Io credo che a Natale Il grande messaggio Che ci arriva a Natale Sia questo Che prima Che l'amore Prima di essere Un impegno Di carattere morale Nei confronti degli altri E' soprattutto Una condizione E' un dono Da vivere E da ricevere Da ricevere Da Dio E' molto importante A Natale Certamente amare Ma soprattutto E' nato E' ai margini E' capace di tutto Delle cose più straordinarie E più belle La verità del cristianesimo E' tutta qui Non prima di tutto La carità Che facciamo Ma la carità Che riceviamo Cioè l'amore Che riceviamo Quello Di Dio stesso Lui è nato E quella nascita In una In una mangiatoia In una stalla Di betemme E' la prova Dell'amore Che lui Riserva Per ognuno di noi Siete È stato un anno Travagliato Ancora una volta Purtroppo In questo periodo Poi per la città di Trieste In particolare Il mondo Ne parliamo E poi Siamo qui A raccontare Ancora un Natale Con limitazioni Con preoccupazioni Con aumento di contagi Una nuova variante Con decessi Ancora Purtroppo Che investono Travolgono le famiglie Qui Non vediamo Quella luce lì Ecco Eccellenza Non vediamo Quella luce Siamo ancora Dentro Un tunnel Doloroso E buio E Dobbiamo Dobbiamo avere Tutti Un grande senso Di responsabilità Perché tutti Siamo nella stessa Barca Non dobbiamo Non dobbiamo Mollare Io credo che Le festività Del Natale Ci devono aiutare Nell'esercizio Di questa responsabilità Collettiva Ma anche In questo senso Di fiducia No? Indubbiamente Trieste È stata particolarmente Colpita Non solo al virus Però pare che adesso Questi giorni Stia un po' Scendendo Però resta Una situazione Molto complicata Molto difficile Devo dire Però che Sia sul fronte Delle responsabilità Istituzionali Sia complessivamente Sul fronte Dell'esercizio Delle responsabilità Collettive La risposta Mi sembra Molto Buona E incoraggiante Dico Pensi Tutto quello Che Insomma Si fa A livello Di Amministrazione Sanitaria Regionale A livello Di ospedali A livello Insomma È un impegno Mastodontico Insomma E Quindi Insomma Io sento Il dovere Di ringraziare Sentitamente Medici Infermieri Infermiere Volontari Personale sanitario Però Devo dire Che bisogna Anche ringraziare La gente No La gente Insomma A parte Qualche Francia Insomma Però La gente Sta dimostrando Grande senso Di responsabilità Sta dimostrando Insomma Che Che È maturata La consapevolezza Che siamo Nella stessa Barca Evidentemente C'è chi più Io è pronto Chi lo è meno Come sempre Ma Mi sembra Di poter dare Questa valutazione Positiva È stato l'anno Delle elezioni Anche In città È stato l'anno Delle elezioni La capa elettorale Che ovviamente È stata fortemente Condizionata Anche da questo Sì È stato l'anno Della riconferma Della giunta Del sindaco Di piazza Quindi Però Devo dire Che Nonostante La pandemia Nei suoi aspetti Molto Gravi E severi Devo dire Che Trieste Però Insomma Sta reagendo Bene Perché Per qualità Della vita Insomma È prima in Italia Mi pare No? Eh sì Ci sono progetti Molto Interessanti Per quanto riguarda Il porto Vecchio Ho visto Anche Ed è un progetto Anche interessante Anche quello Insomma Magari Oggetto Di battito Che La capino via Sì La capino via Anche quello Mi sembra Un progetto Molto interessante A lei piace Ho letto Sul quotidiano Poi anche Queste spese Che si faranno Per risistemare Le nostre scuole Quindi E poi Anche Sono molto Promettenti Le cose Che vengono fuori Sul fronte Scientifico Tecnologico In questa città Io credo Che Pur Nel momento Difficile Insomma Ci sono i termini Per guardare Con fiducia Davanti Ha un messaggio Di quello Che Tra le righe Ha già detto E non solo Proprio oggi Proprio oggi Con l'inizio Di un nuovo Possibile Sciopero In porto Quindi dal 23 Di dicembre Addirittura L'avrebbero annunciato A oltranza Quindi è un nuovo Segnale Che si manda Anche al mondo Agli operatori Di questo mondo Che vive Che vive di programmazione Quindi Crea uno scompenso Notevole Abbiamo visto Che danni Ha già creato Lo sciopero Di ottobre Cosa si sente Di dire A questi laboratori Che Vogliono manifestare Sono una parte L'abbiamo detto Tante volte Piccola Numericamente Rispetto al totale Però insomma Io credo Che la strada Del dialogo In questo momento Sia la strada Migliore Certamente Dialogo Non vuol dire Rinunciare Le proprie posizioni Ma La strada Della contraposizione Almeno In una stagione Così complessa E delicata Come l'attuale Credo Che non sia La strada Migliore Lo avevo Già detto A suo tempo In ottobre Lo ribadisco Adesso Io credo Fermamente Che La La I problemi Che nascono Almeno In questa stagione Vanno Affrontati E risolti In un Un contesto Di Di dialogo E di Collaborazione Eppure Questa crisi È una crisi Anche Dell'autorevolezza Cioè Del credere A qualcuno Che Conosce Ha studiato Sai Competente Ed è una Chiusura Di dialogo Totale Come si fa A recuperare Questo aspetto Ne abbiamo parlato Più volte Eccellenza In questi mesi Però Adesso è amplificato Per quanto ridotto Numericamente L'abbiamo detto Tante volte Però c'è Cioè è proprio Un'incomunicabilità Allora Questo è l'aspetto E' l'aspetto Preoccupante Direi Un po' Credo Di questa Di queste posizioni Polarizzate Può dire responsabilità Rapporta anche un po' La stampa Quei talk show Io qualche volta Ho visto Ma Direi Sono Spettacoli Dove va in scena Il litigio Per il litigio Non ci sono più Spazi Dove Dove va in scena La pacatezza Del ragionamento Del confronto Questo è Un grande limite E' un grande limite Purtroppo L'animosità Non Non porta nulla E non fa crescere Nessuno Io credo Che Se questo paese Insomma In bocca Invece Una stagione Di confronto Pacato Di dialogo Costruttivo Insomma Di un esercizio Più Fecondo Della ragione Io credo Che Allora Questo paese La possibilità Di crescere Le polarizzazioni Gli scontri I conflitti Esacerbati Non portano a nulla Il libretto Che ricorda Il cammino sinodale Il messaggio Per l'avvento Gesù camminava Davanti a tutti Un cammino Che abbiamo da fare Il papà francesco Ha messo tutta la chiesa universale Nella condizione del camminare insieme Cioè del cammino sinodale La parola sinodo Lei lo sa È la somma di due parole greche Sin che vuol dire insieme E oidos che vuol dire cammino Quindi È il camminare insieme Io in questo messaggio Per l'avvento Rivolgendomi evidentemente Alla chiesa di Trieste Mi sono chiesto Il cammino cristiano Che caratteristiche ha E ho detto È un camminare con Cristo Ed è un camminare È il seguito di Cristo Non abbiamo alternative Noi cristiani Non è che Possiamo camminare Dietro al primo Che passa per la strada Seconda Il camminare insieme Il camminare insieme Vuol dire Un camminare Direi Secondo lo stile Di comunione Che si vive all'interno Della vita stessa di Dio Nei rapporti del padre Il figlio E non lo spirito santo È un camminare Nella comunione E in questo spirito Di comunione Che va Profondamente Ricoperato Guardi La grande idea Di chiesa Partolita Dal concilio Vaticano II E l'idea di comunione Purtroppo È rimasta Ancora solo Una grande E straordinaria idea Il Papa Ci dice Datevi una mossa Cominciate a viverla Concretamente Quotidianamente Nelle realtà Delle diocese Delle chiese particolari Eccetera Aspetta una critica Anche Ho creato un programma Molto Molto importante Che coinvolgerà I consigli Diocesani Le parrocchie Eccetera È un programma Molto sviluppato Molto intenso Diciamo il messaggio Anche per il 2022 È creare questa comunità Essere comunità È creare Questa comunità A condizione Che la comunità Cammini con Cristo E al seguito Di Cristo Eccellenza Quindi La vigilia Alle 23.30 Presiderà in cattedrale L'ufficio La lettura E la Santa Mesa Della notte La solennità Del Natale E poi Il 25 Abbiamo detto Alle 10 La Santa Mesa Che sarà tra l'altro In diretta Su Tele 4 Voglio dire però Che il 25 Il 25 Purtroppo Non potrò andare in carcere A causa Covid Io stavo guardando Proprio tra gli appuntamenti Perché mi ricordo Ogni anno Lo diciamo Ogni anno Andavo a celebrare La messa Il giorno di Natale Andavo a celebrare Il pomeriggio La messa In carcere Purtroppo Non è possibile Anche perché Ci sono molti Molti Contagi Attualmente Però So che La comunità Di Santigidio Fa il pranzo Con i poveri Quindi il pranzo Di Natale Andrò A farlo Con i poveri Trieste Questo pranzo Organizzato Dalla comunità Di Santigidio Sarà una bella cosa Quindi Mattino La messa Per il popolo In cattedrale Pranzo Con i poveri E Alla sera Chiuderemo Con i Vespi Solenni In cattedrale Eccellenza Grazie Buon Natale Grazie Grazie di cuore Buon Natale A lei Buon Natale A Telequattro Buon Natale A tutti Grazie a tutti In collaborazione con Trieste Trieste Trasporti Muoversi bene Muoversi bene Grazie a tutti Grazie a tutti